Il destino di un calciatore molte volte è appeso ad un filo e lo dimostra Boris Radunovic. Voi pensate se al 95esimo, quell'uscita a vuoto, con Frolucio che tenta di mettere la palla in rete, si realizza con il gol del Bari che cancella la promozione del Cagliari. Sembra stato devastante per la carriera del portiere, che fino a quel momento, e nelle partite precedenti in particolare, era stato veramente un grandissimo eroe. Noi volutiamo però l'insieme della stagione di Radunovic, che ritornava ad essere titolare dopo tanti anni. Lui era stato in precedenza con l'Avellino e lui è stato in modo, se vogliamo, contraddittorio. Ha patito il peso della difesa nel giro d'andata e invece si è dimostrato sicuro e in crescente rendimento nel corso del girone di ritorno, addirittura capace di essere determinante anche nelle poche occasioni in cui in una partita veniva chiamata l'azione. Dovendo dare un voto, Radunovic, sommando le due parti di cui abbiamo parlato, il 7 e mezzo sarebbe meritato pienamente.